Proviamo a fare un po' di conti in vista della finale playoff dell'Olimpia-Palazzolo. Gli incisani si giocano domenica l'ultimo atto del girone contro il Ponte a Sieve per poter andare poi a sfidare il Fratres Perignano, secondo certo del girone D, avendo 15 punti di vantaggio sull'immediata inseguitrice a fine stagione. Appunto, chi vince la gara di domenica con gli avversari, che hanno però l'opzione del pareggio essendo arrivati avanti in classifica, va a mettersi nella graduatoria delle migliori sei, ancora insufficiente fino ad un nuovo turno per determinare poi l'intero podio. Ora, delle tre, una è certa dell'ammissione alla promozione, ma nelle ultime stagioni anche una seconda ha avuto tale sogno trasformato in realtà. Insomma, a livello di statistica, sono solo due gli ostacoli per i rosso-verdi per prendersi la categoria superiore. A distanza di due settimane però ritorna un impegno diretto con il Ponte a Sieve, dopo il pareggio in campo esterno alla trentesima giornata. E purtroppo, stavolta, il pari al novantesimo non basta per festeggiare.